Signori siamo negli uffici di Tom Sardora, questo dovrebbe essere un nuovo video Aguna maratira un po' di vento, mi potrei mettere il microfono ma poi sembro troppo professionale quindi non mi va Dovrei incontrare per la prima volta i moderatori Che frolla, già l'ho incontrato quindi chi se ne frega Sol e Jure mi mancano l'appello Dovrebbero già starci e vediamo un po' come sarà Io intanto chiamo Roberto e mi faccio venire a prendere Eccoli, uè, 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 uè Io mi sono fatto due dappellette stamattina Buongiorno, non ho mangiato niente Ho visto una checa bomba No ma che stai a far vedere? No, non so, la videocamera è in barro Come stai? Alla le bicipite Jure Com'è? Emozionato Dai, 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 che ci frega Questa è la prima volta Che è quella nostra? Non è vero, la mia non è la prima volta Ah, Romics È la prima volta, la mia di Jure Jure è stato bello? Sì Ma riprendi Jure mentre dice che è stato bello Jure è stato bello? Sì Ah, ok Grazie Jure E tu invece? Io, questa qua Questa è la cosa? La cicciola da 89,5 Ah, hai preso i biglietti? Vieni che ha appena ricontato i pallini No, però l'ha contati tutti Uno, uno, uno No, no, fatti vedere, fatti vedere come fare Ma io ormai è un contagio No, ma io penso che ormai lui sappia proprio C'è tutti i numeri di ogni blocco Ma avete pensato anche i nomi di chi sta venendo Ma anche la 3D? No Allora, poi aspettiamo Sol che penso che arriva a me Eh, ecco L'estrazione No, quale? Quella a Milano? Mmh C'è un video da fare Carini, divertenti Che vedrete In diverse cose No Piccante! No, ma cazzo, piccante! E lui mi dice no Piccante! Solo ci chiede tantissimo Ne ho portati due tipi di piccante Perché sono bravo Grazie Perché sono una brava persona Vi ho portato il cioccolato Che c'ho qua Quello da Quello là Ma se in quanto non fai piccante Niente Vabbè faccio il piccante E più vi ho anche comprato i macarones di Giulio Massari Da provare Guarda un bebetratto Digglielo E' soltanto se fai piccante Ah, erano Eh, erano Dove gli sono lanciati No, no, stavo stanno ballati Mi ricordi te? No C'è un video Aspettiamo Sol e poi vediamo Ah, sta a dire Alla, lupo incredibile Siamo già Carini, son di là Dietro la scala L'ho portato dietro la ringrazione SOUL OF GAMER Sì, sei ancora vivo Ma io qua vedo le piacche di Yure SOUL OF GAMER E niente, qua oggi E questo è SOUL Salve Hai visto? Là c'è sempre C'è Yure 44 Che sta là dietro E l'imbecille sta dietro di te Ecco l'imbecille A buona mattata ragazzi Ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89 Siamo tornati in un video incredibile Siamo a Legnano Domani c'è il live show Ciccio Gamer 89 live show Sono con Yure 44 Non gli vuoi dire ciao Eh sì, sei in un video Non sono foto SOUL OF GAMER Ciao E quindi oggi Ah, è qui Checco frolla E siamo con Checco frolla Scusate Infatti se avrete visto L'abbiamo messo un po' più Un po' più da parte Allora Cosa abbiamo fatto oggi? È andato ancora niente Però Come Checco ci può Sicuramente leggere Qua sopra Cosa andiamo ad assaggiare? Qua questo I'm going to I'm going to I'm going to I'm going to Non ti avevo detto Ti ho detto che ti legge qua sotto Qua sopra I'm going to I'm going to Allora Allora ho detto Però è un po' più tedesco Che il giapponese Non lo so Non so Se cosa comincia Signori Allora Di solito Loro non la sanno Questa piccola cosa Perché non gliel'ho detta Cioè ogni bustina Ha il suo ramen E le sue Proporzioni Ma Se noi Che cosa vuoi fare? Ma se noi Perché non siamo Ok Ma se noi No, no Ne apriamo No, no E ne mettiamo Due per uno È più saporito Non piccate No, 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 no Allora Il signor Roberto Dagli uffici di Tom's Ha dei bollitori Incredibili E quindi noi Andiamo a Che carino Vedi Qua ci metterei Il cacchio di Gecko Ah Sbagliato Ok E qui adesso Noi Con calma Nel senso Tanto abbiamo il tempo Da perdere No Facciamo un attimo A mollare Sti cosi qua Una cosa che ho capito E so che me lo stai chiedendo E Dobbiamo togliere Tutta l'acqua Questa qua Perché vengono più concentrati Sai Metti caso che non venissero concentrati Noi facciamo più concentrati E Vabbè Poi C'è Keletan Che è malvagissimo Nel cuore Perché mi ha preso un olio a peperoncino Adesso non chiedo che sia necessario Però apprezzo l'inventivo Dai Keletan No, no, no No, no Allora Lo voglio solo leggere Leggilo No, lo voglio solo leggere Provescia Ragazzo Metti due piscine No, no Non ti senti l'odore Oh, sei cattivo Ma secondo me non pizzica Ma no Secondo me non pizzica Ma senti Secondo me non pizzica Io lo voglio già prenotare qualcosa all'ospedale Cazzo No Secondo me non pizzica Io ne ho messo un po' Secondo me non pizzica Oddio il rosso ce l'ha Per di suo ce l'ha Questo me lo sposti un po' più di là Ecco Fai quel esempio Balletta dai Eh Fai qualcosa nella tua cavolo di vita Oltre a rompere le scatole a noi qua Tre Tre Tamila persone Esatto Eh Voi lo facciamo di più eh Eh Questo io non lo consiglio Perché? Ma se già metti 4 punti non a caso Ma per me è buonissimo Per me non pizzica Sa di buono ma non pizzica Dai non pizzica Non mi dica è pizzica 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 Ci stiamo sentendo troppo No non pizzica Non pizzica Così così Ma non pizzica Non è così così Non pizzica Senti dire Abbiamo impalato diverso Li lasciamo un po' croccanti No ma in quel momento Andavano bolliti in acqua bollente 5 minuti Ma sì Eh vabbè Ma noi siamo mangiati crudi Ma che te frega E che dovrebbero essere coperti con il coperchio Allora Sentite ragazzi Se volete Ognuno li faceva un po' Oh Ognuno è proprio ricerito Ce ne abbiamo parlato prima E li potevamo anche mangiare crudi Esatto Oh Che poi siano tossici o meno Non mi pare Non c'è scritto sopra Il numero non lo è Ma no Non lo è Tutto Lo leggo io di nuovo Spera Vabbè Che c***o Ma perché inteso Ma parla te il giapponese Secondo me solo fa Guarda Guarda Ragazzi La nostra cottura Gliel'abbiamo data Adesso Non abbiamo Non abbiamo Le attrezzature Alla MasterChef Però ci accontruttiamo Quindi questo è un cucina col ciccio Questo è un 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 esperimento Un esperimento E questo È Arta Tururu Turtururu Le forbici Con la puntata Dondata No Checco con quelle della mianto Appuntita Forca miseria Ma effettivamente L'acqua un po' grigetta Eh Però penso che sia Perché serve Per da più sapore So abbastanza Bedi così Cagarella E tepia Ma Non lo capisco Ma non è assolutamente vero ragazzi, io vi dico, non è assolutamente vero, ma questo non credo che sia, non è piccante, queste sono alghe e sesamo, cioè, alghe e sesamo perché noi siamo, quelli di altri piedi, sì, esatto, quindi, mettiamo qua, allora questo potrebbe essere interessa, questo qua, questo qua, ci potrebbe stare, ah davvero, questo non siamo, c'hai delle polvi di Roberto? Roberto perché devi esagerare, vabbè, mi stai cacciando qualsiasi tipo di peperuncino tua, dentro questo ufficio, questo è indiano, ma poi perché hai, no dai, questo è buono, questo è paprika, no questo è un mix indiano, buono, è buonissimo, però vi ricordo del brodo, forbici, forbici è un bordello, ah dai, se questo è buono, però io, direi, visto che stiamo rimettendo tutto, ma io devo mangiare stasera, io devo sopravvivere, non hai capito, non hai capito, ragazzi, stiamo potenzialmente, è vero, adesso è festa, in questo momento, per il buono, se questo pizzicava, era di colore scuro, eh, oh no, c'era Yure che ha guardato, incuriosito tantissimo il da farsi, io l'ho visto, quindi, ragazzi, questo puzza, ma no che puzza perché è cattivo, questo puzza nel senso che è pizzico, no, forse c'è il teschietto adesso, questo, sì, lo potenzialo tantissimo, ragazzi, ora, no, vediamo, magari ho esagerato, eh, io non vedo che domani non farò, no, io mi cerco qualche impegno, accesso, ragazzi, accesso, sicuramente sì, sentite, ma vogliamo fare uno alla volta o tutto insieme, no, che schifo che sto a fare, sì, in effetti, ma una domanda, dimmi, se faccio la dub, nel video lo editi, per una canzone della sua, se lo fa, Ah, Patrizia, il video, sì, se lo faccio io, non edito niente, quindi vai, 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 vai a cavolo Ok, bisogna vedere chi fa in mano a sto video, chi si mette, che Patrizia ci perde tempo, io no, raga, dai, tutti insieme, chi se ne frega Non c'ho una porchetta, però, vuoi avvicinare, per cortesia, ma, come faccio? Beh, devo usare una porchetta, una porchetta Vai, mettete, mettete, girate e rilasciate qua Che cos'è, ne prendi poco, ti tovo uno schiaffo, mamma mia, quante botte di dolore No, ma il profumo per assurdo Oh, ma il palo per gli altri Dovete restare qua, te lo vedo Io mi metterei un passoletto sotto, ragazzi, con dei risparcimenti di chissà cosa Allora, metto una protezione civile qua Tre, aspetta, Natomo Ok Tre, due, uno, via, vai No, questo lo devo assurdo Oh, questo dà, Patrizia Dai, Giulia, questo dà una cifra, oh No, non direi stronzate, eh Ah, questo è uno stronzo Non lo metto su, non lo fai Ah, che bocca Non vede l'acqua Non vede l'acqua, le peggiori Saffanculo Ah, segnoso Mamma mia, sentite qua, mi viscica Ah Ah, la sciabella Lui si sta contenendo, ma sta morendo dentro Ma non è anche stracolero Ma Eh, dai, con fuori Raga, questo pizzica Oh, capito Che esagerarsi Ma, io, le Cazzo E' fin d'ore Ma, io, cazzo No, ma lei fa schifo, ragazzi Regà, io non ti abbottavo la tarea No, non vedi che ha preso il bagno Lo lascio fare a te, guarda Devi aspettare che scende goccia per goccia per un quarto d'ora Un quarto d'ora Sei cattivo, mamma Allora, decidiamo, facciamo una cosa così Facciamo così, se Checco decide di dare un'altra forchettata la vediamo tutti quanti Checco Checco Checco, fai l'uomo Checco, poi vieni dissciato, eh Checco, rovini i video Hai rovina i video, me ne hai fatto Hai rovini i video Dai, fatemi vogliono, eh Stai rinunendo i video, Checco Ma io lo faccio Ma vieni qua Ma perché? Ma vieni qua Ma io lo? No, tu te la senti, Sul? No, però io lo? Dai, oh Non è scena, non è pure, muoviti Per favore, sto morito Dai, dai, po', non è neanche tanto, dai Io non lo, dai, come non lo vuoi, oh Non c'ho l'equo, lascia Dai, io non c'ho lo stomaco, lo sto a fa' Eeeh, piatto Lasciati, eh Però non mi hai aspettato il via, così potremmo No, però la risiconda la facciamo una alla volta, avevo una buona idea E che ci godiamo il momento, capito? Che padre Ma calcolate che il secondo ragazzi ti mena, eh Eeeh, prenderlo solo Però se no lo faccio, è quello che devo riferirlo io No, lo faccio No, 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 se lo faccio Come meno lo faccio? Se meno, cazzo Io ho te per fermare il boccano, tutte e tre Dai, su, prima tu, poi io in giure Dai, fai Ma perché tu è questa? Questa? Che ti la tocca? No! Oh, sono due Ecco, ecco, ecco Ma no, no Timbo, lascia che, no Timbo Da amico, da amico, non ho i coglioni Guarda, hai metto anche il passo Io voglio me ne pensi un po' Ti ho pensi prima io, che erano il triplo dei vostri No, io ho pensi, dai, dai, su Dai! Tanto non fissica No! Vi giuro che il secondo lo sentirei più ragazzi Noi! Agare, pagare Sto, guarda Sto, guarda che sta morendo non basta deve aspettare basta è finito il video ma dai dai vai io e te insieme no no Jure questo atteggiamento da parte tua non mi piace No no Jule no Non mi piace devi intingere qui Ma non è di meno Però intingi Dai va bene Dai Jule vai Ma che buono cazzo Ma se potessi magari un vetri Che dopo Pulisci Cazzo Mamma mia rega Hanno voluto, fissi loro per fare questo video Io questo video non lo volevo Sì, ciao Adesso facciamo anche di te Vai vai, muori Sempre di me, non ho proprio La tua portazione diminuisce Fanno mancanza La gianca Troppo No, no, no Acqua Non c'è una lira Pane in euro Patrizia, tu hai riscosso Questa c'è monofisica Poi Poi, hai diventato l'aria Tento di gioco Io no Un idrante Ma poi penso che se facciamo un'inquadratura all'alentatore Su tutte le nostre fasce Che se è un piccante viene qualcosa di Tipo faccio Disastrosico Raga, mufomito Scusate ma No, era Raga, fidate Non lo faremo Mi chiamavo al cuore, dai Mi chiamavo di Sai che era questa cosa Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua Se non raggiungiamo e non superiamo i 100.000 like questo video Siete dei cacchi Ah, infatti Ah Signori Ciao Iure, ciao Sol, ciao Gecko Ciao A me più A me più Ciao Ul A me più A me più Ciao Ciao Ma che schifo che fai però E che cazzo vuoi? Non te la ribeni vero? Ma fai schifo Ma fai schifo Allora io completerei questa parte del vlog Che non si è capito niente Io già lo so Perché siamo al ristorante Siamo al ristorante E ci sono anche loro Le ho portati con me Uno, due, tre Ciao Un imbarazzo non avete idea Ma non tanto per Allora lascialo E due E per tre Che è un problema Però che fai? Andata fai mangiare la creatura Poi dice Andata fai mangiare Andata fai mangiare Ti fa male la testa? Quanto fai schifo Guarda con il pennelletto Puoi fare unisci Senti ma Prima che foto stavamo vedendo? Mamma mia Aspetta rimani L'ha preso come a fuoco Lo metto a fuoco La macchinetta incredibile Cioè Altro che antaie E cose del genere Andata vabbè Oh scusa Io non sono così esperto Dimmi Chiama no Non sai E io vorrei pure lo sa La faccia di quello che ti vince Niente mi sento Ti sta facendo le boccacce Perissimo Quella faccia che si ritrova Giusto quelle può fa Tu lo sai proprio Ho finito solo sulla perata Io posso dire tante cose Ah Senti con il naso che fa provincia Ah Come ti so A Checo Girate un attimo Dai ti prego Devo fare una cosa No dall'altra parte Ok adesso rimani fermo così Ok adesso rimani fermo così perché devo zoomare su una cosa che ti assomiglia Vai vai continua Ok Cazzo ragazzi E' uguale No no Poi vedrai nel video Allora Allora Lo spettacolo L'evento è finito Sì sì ci siamo spenti E' finito E niente è andata bene Poi non lo so Io non lo so come monterò sti video Sono sincero Ma non ti Ma poi tra l'altro abbiamo tantissime girelle L'abbiamo anche regalate un po' ragazzi Che erano tantissime Alcune pure i bondi Non parliamo di quel discorso No no ma quelle persone le bandiamo No 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 E lui è i bondi Sai che mi hai rubato Sì le butta fuori Sì L'hai detto questo mi piace Ma hai rubato pure le patatine Ma non è capace Che cazzo è sul cancone È un cancone Che cacchio L'evento è andato bene Io spero solo Che si sia divertita la gente che è venuta a guardare l'espectacolo Perché è la cosa che ci tengo di più Grazie mille ai mod E cazzo che non hai detto con la misera finita Avrei questo fulgore nel cuore per tutta la vita Sì E io una cosa che mi è piaciuta di più C'era un papà Che aveva vicino il figlio Quando scendevate a Pinnacoli Facceva Pinnacoli Pinnacoli È stato bellissimo Perché ce l'avevo di fianco E lui che rideva Si divertiva Applaudiva Dietro dietro vicino al fonico Vabbè ma secondo me hai guardato anche bene Ho guardato benissimo tutto Tutto E quindi niente Bella Spero che il video vi sia piaciuto Se il funzione vi raccomando Pollicione su commentate Condividete Ci vediamo al prossimo momento Ma non lo so come farà sto video Sti cavoli Eccolo Eeeh 50 iscritti porca puttana Non avevamo detto parolacce E arriva lui E non monetizzo più per colpa tua No No Eeeh No Eeeh Prego 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 fai qualcosa Sì Non avevamo detto parolacce Non avevamo detto parolacce